Sono Andrea, ho 39 anni, sono un padre separato da circa tre anni, ho tre figli di cui due dalla vecchia unione con la mia ex moglie e uno con la mia nuova compagna. Hanno rispettivamente 7, 4 e un anno e ho sempre lavorato come operaio specializzato in una grossa azienda metallomeccanica e oggi mi trovo comunque in una fase di difficoltà di cassa integrazione da circa un anno e mezzo. Io sono passato da uno stipendio pieno di circa 1500 euro a una cassa integrazione pari a non più di 800 barra 900 euro e oggi mi trovo in serie difficoltà per questo motivo perché nonostante abbia chiesto diversi bonus legittimi che ci spettano per quanto riguarda i minori, la burocrazia è così lenta, parlo più per gli assegni familiari e bonus bebè, è così lenta che comunque è sempre difficoltoso richiederli e comunque percepirli tutti i mesi nonostante le domande siano state accolte. Faccio la spesa all'emporio solidale e mi aiuta proprio come bene di prima necessità quanto riguarda gli alimentari piuttosto che saponi, piuttosto che pannolini omogenizzati o comunque quello che riguarda la quotidianità e questo mi permette di risparmiare tramite un punteggio circa dalle 60 alle 80 euro al mese ed è un grande aiuto. La prima volta che sono venuto qua all'emporio ho provato quel senso di vergogna e un po' tra virgolette di malessere perché comunque devi affrontare anche determinate situazioni di difficoltà e comunque farlo sapere a persone anche che non ti conoscono, non è semplice e questa cosa comunque sono riuscito a superarla anche perché non avendo anche un altro tipo di sussidio questa cosa mi ha fatto in modo anche pensando alla famiglia di poter superare questa difficoltà di umiltà e di vergogna nel farmi dare una mano.